un caro saluto gentili telespettatori buonasera e ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce delle istituzioni questa sera gradita ospite dei nostri studi è ilenia rento presidente di ater belluno buonasera elenia buonasera lei e buonasera a tutti i telespettatori ecco elena lei è presidente dell'ater ormai da più di cinque anni insomma un periodo già abbastanza importante però è giusto far conoscere ai nostri telespettatori cos'è l'ater innanzitutto di cosa si occupa si sa che si occupa di alloggi popolari ma non solo porta avanti anche tutta una serie di attività che sono poco conosciute ma che sono veramente interessanti sì l'attività principale dell'ater consiste fondamentalmente nell'assegnare alloggi a quelle famiglie che hanno difficoltà a trovarle nel mercato libero per una questione soprattutto di canone e attraverso il recupero di alloggi oppure la costruzione oppure l'acquisto di alloggi mediante finanziamenti regionali statali o europei oppure con fondi di bilancio propri ecco c'è in questi anni in questi mesi c'è tutta la grande partita del pnr il piano di rinascita dello stato che impegna tutti gli enti tanto più impegna un ente come l'atene insomma che appunto ha a che fare con investimenti corposi sì effettivamente anche noi stiamo lavorando con un fondo complementare il pnr abbiamo ricevuto un finanziamento di 8 milioni 90 mila euro stiamo lavorando sul comparto di fiamoi in comune di belluno dove abbiamo quattro edifici e tre di questi verranno sopraelevati attualmente abbiamo 40 alloggi e ricaveremo altri nuovi dieci alloggi e li stiamo utilizzando una tecnica innovativa perché stiamo posando un cappotto sismico e in particolare questo è stato brevettato da un'azienda italiana in accordo con l'università di padova e all'interno ha un'anima in calcestruzzo armato che collabora con la struttura esistente e quindi resiste anche al sisma è un lavoro particolarmente complicato e complesso perché le aziende stanno operando con gli inquilini che vivono all'interno quindi un disagio sia per chi lavora ma un disagio anche per chi ci abita e devo dire la verità i nostri inquilini sono attualmente molto pazienti ma sanno che poi ne beneficeranno sia per quanto riguarda il costo in bolletta perché ci aspettiamo che ci siano dei notevoli risparmi ma anche dal punto di vista sismico e oltre al lavoro che stiamo facendo a fiamoi ristruttureremo sempre con il pnrr altri 16 appartamenti in provincia di belluno lì ci sarà una ristrutturazione totale e verrà posato il cappotto interno ecco con i costi dell'energia che in questi ultimi anni è cresciuto enormemente sicuramente una buona notizia quella di sapere che chi abita in questi alloggi sociali potrà beneficiare di questi interventi che ricordiamo all'inquilino non costano nulla sì effettivamente i finanziamenti che abbiamo ricevuto negli ultimi anni li abbiamo dedicati quasi interamente all'efficientamento termico perché in provincia è un problema molto sentito i nostri alloggi hanno tutti mediamente 30 40 anni per cui le spese di riscaldamento si fanno sentire mentre noi possiamo intervenire nel canone di locazione perché è un canone basso non possiamo intervenire nelle spese condominali perché gli inquilini pagano interamente le spese come tutti gli altri effettuari delle altre case per cui il costo delle bollette pesa particolarmente eh sì sicuramente ma come funziona l'atter forse è anche giusto fare un po' un piccolo escurso sul funzionamento di questo ente che è molto conosciuto come nome ma poi quando si entra nel dettaglio non si sa mai bene come funzionano questi questi organismi si allora in effetti ehm nel tempo c'è stata un'evoluzione mentre ci sono stati dei periodi dove ad esempio si costruivano degli interi quartieri dove c'erano solamente case popolari adesso si tende a fare dei progetti integrati quindi in accordo con con i comuni si costruiscono sia degli alloggi popolari ma anche case destinate ai privati e assieme a questi si costruiscono anche dei servizi soprattutto nei nostri piccoli comuni dove si sente l'esigenza di avere dei servizi soprattutto per chi abita lontano dai centri e noi in questi anni abbiamo abbiamo lavorato molto in questo senso abbiamo fatto vari interventi ad esempio a Fonzaso abbiamo ristrutturato un edificio e al piano terra abbiamo realizzato una biblioteca oppure a Tricchiana abbiamo ristrutturato l'ex asilo nel sottotetto ci sono dei locali che vengono utilizzati dal comune e al piano terra i locali sono stati affittati alle poste poi è stata ristrutturata anche la piazza proprio perché funga da punto di ritrovo per la collettività la stessa cosa è stata fatta ad esempio a santa croce al lago o a mugnai di feltre dove sono stati ricavati anche dei locali per le associazioni dove si possono riunire e dove possono anche ad esempio tenere i materiali che che servono ma non solo abbiamo in provincia anche altri uffici destinati alle poste italiane come ad esempio a sant'antonio di tortal e abbiamo delle farmacie abbiamo dei locali che abbiamo affittato ai medici per per fare degli ambulatori che anche questi sono importanti nelle piccole comunità e una cosa particolare che pochi conoscono ad esempio è che l'ater è proprietario anche di una caserma dei carabinieri della caserma dei carabinieri di mel e poi ad esempio sempre l'ater con un progetto integrato ha ristrutturato un edificio storico dove ha ricavato dei mini appartamenti affittati a persone anziane che vengono aiutate da operatori socio sanitari individuati dall'ulss e dagli assistenti sociali nelle loro attività quotidiani come ad esempio fare la spesa piuttosto che andare in farmacia e via dicendo quindi diciamo l'ater non è solamente a servizio delle famiglie meno ambienti del territorio però sempre più spesso è a servizio dei cittadini attuando appunto queste politiche integrate in aiuto anche dei comuni si e quindi questo dimostra come l'ater sia un ente veramente radicato nel territorio io stesso non ero a conoscenza di molte di queste iniziative che lei mi ha portato di cui lei mi ha portato a conoscenza e questo rapporto con il territorio con le amministrazioni pubbliche si dimostra anche nel fatto che l'ater collabora con un organismo che è una vera e propria conferenza dei sindaci si fanno parte di questa conferenza dei sindaci cinque sindaci del territorio bellunese scelti direttamente da loro fa parte di diritto il sindaco del comune di belluno e loro danno dei pareri all'ater quindi ad esempio danno dei pareri sul bilancio preventivo sul conto consultivo sui piani triennali delle opere pubbliche e anche ogni qualvolta il consiglio di amministrazione dell'ater richieda a loro un parere inoltre integra i bisogni della società con le proposte dell'ater avvalendosi anche di un altro organismo sempre a composizione unista che è l'osservatorio per la legalità e la trasparenza. Ecco che sono parole che sono sulla bocca di tutti soprattutto in questo periodo insomma dalle olimpiadi dei grandi canteri olimpici in poi la legalità è uno dei punti principali e quindi è bello sapere che anche l'ater su questo argomento è molto vigile e com'è la situazione in provincia anche dal punto di vista degli inquilini insomma degli alloggi popolari? Fortunatamente noi in provincia di belluno non abbiamo occupazioni abusive credo siamo una delle poche province in italia a non averle e poi per quanto riguarda gli inquilini devo dire insomma dal punto di vista della legalità non abbiamo non abbiamo problemi. Questa è una buona notizia che dimostra come fortunatamente la nostra provincia sia ancora abitata da persone di alta moralità e forse è anche il caso però comunque di spiegare anche ai nostri cittadini come possono fare per entrare nelle graduatorie che tra l'altro vanno a scadenza a breve giusto? Sì allora le graduatorie si rinnovano tutti gli anni le bandizioni vengono effettuate nel mese di novembre di dicembre rimangono aperte per 40 giorni non vengono effettuati bandi in quei comuni dove non ci sono alloggi disponibili oppure la graduatoria non è stata scorsa l'anno precedente e l'ater si occupa di tutti i comuni della provincia tranne che del comune di Feltre dove si arranzano si arranza il comune per i bandi e dopodiché le graduatorie escono generalmente nel mese di giugno o di luglio e poi vengono scorse per un anno intero. Ecco e com'è la situazione in provincia? C'è una crescita nella domanda di alloggi popolari oppure la situazione è stabile oppure addirittura non so possa essere anche in calo? La situazione è stabile da diversi anni abbiamo circa 400 domande di altre tante famiglie e negli ultimi cinque anni è previsto che si possa far domanda in qualsiasi comune della Regione Veneto avendo maturato una residenza di almeno cinque anni negli ultimi dieci in qualsiasi comune del Veneto. Quindi insomma per fortuna diciamo in un periodo nel quale le famiglie fanno spesso fatica ad arrivare a fine mese insomma sapere che c'è un ente come l'Ater che può dare delle risposte è importante. Quanti alloggi gestisce l'Ater in provincia insomma a grandi linee? Allora indicativamente noi abbiamo alloggi di edilizia residenziale pubblica poi abbiamo alloggi in social housing e abbiamo negozi box auto per un totale circa di 2000 unità sono all'incirca 1650 gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ecco il tempo a nostra disposizione sta per scadere abbiamo ancora un paio di minuti quindi forse c'è qualcosa che è giusto mettere ancora in luce per quanto riguarda l'Ater? Dunque dal 2019 i contratti che vengono stipulati con gli inquilini sono contratti a scadenza durano cinque anni dopodiché al termine di cinque anni si valuta se gli inquilini hanno ancora i requisiti per poter permanere nelle nostre case oppure se devono uscire e nel mese di giugno scadranno questi contratti che poi dovranno essere rinnovati necessariamente se appunto gli inquilini hanno i requisiti per rimanere all'interno delle case dell'Ater ricordo che sia per la permanenza nelle case dell'Ater sia per entrare in graduatoria non si possono avere in proprietà altri alloggi e bisogna avere dei requisiti relativamente all'ISE ad esempio per poter entrare in graduatoria l'ISE massimo è di circa 22.600 euro Ecco l'ultimissima domanda è questa lei è in scadenza tra breve scadrà anche il suo mandato abbiamo visto che è in carica ormai da più di cinque anni un bilancio personale di questa esperienza all'Ater qual è? Beh l'Ater è un'azienda sana che funziona bene ci sono diverse opportunità di costruzione di nuovi alloggi ma soprattutto di recupero di alloggi io credo che sia importante soprattutto recuperare gli alloggi che abbiamo in proprietà e rimetterli in circolo questo è quello che vorrei fare nell'ultimo periodo del mio mandato riuscire a recuperare più alloggi possibili per riuscire a soddisfare un numero maggiore di domande per quanto riguarda appunto le famiglie che ne fanno richiesta su tutto il territorio provinciale Ecco quando è che scadrà il suo mandato? Quando scadrà la giunta regionale Ah ok quindi ancora sicuramente almeno un anno di lavoro insomma l'aspetta ecco Io ringrazio Ilenia Rento per il tempo che ci ha dedicato ringrazio anche voi telespettatori per la pazienza per aver seguito questa puntata di La Voce delle Istituzioni Grazie ancora Ilenia, buona serata Grazie a lei e buona serata ai telespettatori E buona serata di nuovo a voi telespettatori Grazie a voi Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti